A pochi giorni dalla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutisi nella sede della Prefettura di Cosenza, sono stati varati già i primi provvedimenti per arginare il preoccupante fenomeno degli incendi di auto e mezzi pesanti verificati in diversi comuni nelle ultime settimane nella piana di Sibari. Più forze dell'Ordine è soprattutto capillare azione investigativa per risalire agli autori degli attentati incendiari, ma si chiede anche la collaborazione della collettività per aver ragione di una criminalità che tende a farsi largo nel tessuto socio-economico del territorio. Un impegno preso dal Prefetto di Cosenza, Dottoressa Vittoria Ceramella, proprio dopo l'incontro in Prefettura. Abbiamo tenuto un incontro, un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato la partecipazione sia dei sindaci interessati, Corigliano e Cassano, sia dell'autorità giudiziaria competente che il Procuratore di Castrovillari. Quelle occasioni abbiamo voluto condividere quelli che sono gli strumenti di azione per poter contrastare questa criminalità diffusa, invitando ovviamente anche a dare un senso di sicurezza alle persone, che la percezione di insicurezza è sicuramente uno dei dati peggiori, ovviamente, perché a seguito di questi incendi si crea questa situazione. Però voglio rassicurare che le forze dell'Ordine sono attente, stanno investigando e ovviamente le tempistiche sono diverse per quanto riguarda assicurare la giustizia a coloro che sono gli autori di questi reati. Sente questo modello Caserta, modello Napoli, è applicabile in questa realtà, visto che l'hai avuto esperienza nel senso? Senz'altro, ovviamente questo dovrà avvenire con il placet del Ministero, però noi abbiamo in questo caso proprio applicato in parte questo modello perché abbiamo fatto partecipare l'autorità giudiziaria che potrà condividere con noi, laddove ovviamente il segreto istruttorio non ostia quello che viene detto, a collaborare e potrà ricevere da lui anche le informazioni. Secondo lei c'è scarsa collaborazione dalla collettività? Ma io comprendo la collettività e quindi non mi permetto di criticare, però io voglio dare rassicurazione e voglio dire a loro collaborate perché le forze dell'Ordine hanno bisogno. Io un appello lo faccio anche all'associazionismo sul territorio perché è l'associazionismo che insieme alle istituzioni può dare la stura a scoprire e veramente a contrastare questi fenomeni.